E' stato Gio di Tonno a dare il via con successo al Tirreno Festival, la stagione teatrale del Cineteatro Vittoria che vede la direzione artistica di Alfredo De Luca. Una Kermess hanno sottolineato il vice sindaco Giuseppe Pascale e l'assessore allo spettacolo e cultura Francesca Amoroso che è un vanto per Diamante e che rappresenta un obiettivo pienamente centrato per l'amministrazione comunale che aveva proprio tra i suoi intenti prioritari il rilancio delle stagioni teatrali del Teatro dei Ruderi e del Cineteatro Vittoria. Un impegno sostenuto dalla Regione Calabria e dai partner dell'iniziativa presenti alla conferenza Enzo Monaco, presidente dell'Accademia del Peperoncino, Domenico Amoroso, direttore Gal Riviera dei Cedri, rappresentato anche dalla presenza di Luigi Salsini, componente del Consiglio di Amministrazione. L'obiettivo dichiarato da parte dei presenti è quello di superare il record di abbonamenti messi in vendita a un prezzo sicuramente accessibile a tutti. È stato il direttore artistico del Tirreno Festival Alfredo De Luca a presentare la rassegna che vede quest'anno un cartellone davvero eccezionale con grandi nomi del teatro, del cinema e della musica, dopo Gio di Tonno tanti altri ospiti importanti. La sua bellissima voce e con un suo spettacolo, omaggio ai grandi brani, tratti dalle colonne sonore più famose, non sono mancati naturalmente alcuni dei brani di Notre Dame de Paris, nel quale l'artista interpretava un memorabile quasimodo, particolarmente amato dal pubblico. Sul palco del Cineteatro Vittoria con Di Tonno, Christian Mini, altro protagonista del primo cast italiano del musical scritto da Riccardo Cocciante. Prossimo appuntamento il 30 novembre con l'atteso spettacolo di Enzo De Caro, Lavario Immaginario.